Calcio, parliamo del Pescara di scena a Picerno, domenica ore 17.30, ultima giornata della stagione regolare. Buone notizie per Zeeman che ha recuperato Cancellotti, Cancellotti sarà regolarmente a disposizione. Out Plizzari, Mora e Vergani in attacco conferma per Delemona che trae i Lucani in dubbio coda. Match decisivo per il terzo posto, al Pescara è sufficiente il pareggio, lo ricordiamo. In caso di Capo sarà quarto posto, addirittura quinto, a causa della classifica a Bulza se il Cerignola dovesse vincere a Castellammare di Stabia.